A Messina, dallo scorso mese di ottobre, sono in giro monopattini e biciclette elettriche a noleggio. L'avviso pubblicato dal comune di Messina prevedeva un numero totale di 1000 monopattini e 500 bici. Al bando avevano partecipato 9 società, ma poi 5 di queste non hanno accettato e si sono ritirate. Sono così rimaste in 4, Verde Mercurio, Elerent di Messina, Togo di Patti, Void Technology di Milano e Vento Mobility di Torino. La società messinese Elerent ha dato inizio al servizio in città, che attiva e funziona ormai da 5 mesi con 111 monopattini e 50 biciclette. Adesso l'amministrazione comunale vuole allargare il progetto, perciò ha dato l'autorizzazione alle altre 3 società per l'implementazione del servizio, che andrà ad ampliare la flotta. Nelle prossime settimane arriveranno nella città dello stretto 889 monopattini e 150 bici elettriche, disponibili per i messinesi e per chiunque si trovi a Messina, munito di app per il loro controllo. Nello specifico, il Via Libera per due anni riguarda 556 monopattini per voi, 222 per Vento Mobility, 111 per Togo, poi 50 biciclette per ciascuno. Si arriva così ad un totale di 1000 monopattini e 200 biciclette. Così, a partire da aprile, i mezzi elettrici a noleggio in città potrebbero moltiplicarsi. Così, a partire da aprile, i mezzi elettrici a noleggio in città potrebbero moltiplicarsi.